Gentili telespettatori, buona giornata. La riforma dell'IRPEF, l'IRES ridotta, le tre aliquote, la flat tax incrementale, Giorgia Meloni l'ha definita una riforma epocale. Epocale vuol dire che fa epoca, che fa storia. Storia, epoca, no? Ma andiamo a vedere quanto risparmieranno famiglie e imprese con questa famosa riforma che farà storia, epoca, epocale. Allora, attualmente le aliquote IRPEF sono quattro. Fino a 15.000 euro c'è il 23%. Il 25% per chi dichiara fino da 15.000 a 28.000. Da 28.000 a 50.000 è il 35%. 43% per chi supera i 50.000, per quello che c'è da 50.000 in su. Ci sono sul tavolo tre ipotesi di riforma. La prima prevede un'aliquota al 23% fino a 15.000 euro che, ad esempio, con un dipendente che dichiara 35.000 euro pagherà un IRPEF di 7.382 euro, 100 euro in meno rispetto a quella attuale. All'anno, non al mese, all'anno. 100 euro in meno all'anno sono qualcosa come 8 euro di tasse in meno al mese. Quindi 8 euro in più al mese. Un autonomo invece pagherà 8.709 euro. Per un contribuente che dichiara 60.000 euro all'anno, è un'ipotesi, sarà quindi chiamato a versare 17.550 euro di IRPEF e 700 euro in meno rispetto alla situazione attuale. 700 euro in meno sono qualcosa come 50 euro in più al mese di stipendio, diciamo, tasse in meno che paga 50 euro in più. Ovviamente paga 60.000, riceve 60.000, quell'altro riceve 35.100 euro. Cosa succede se le tre aliquote dovessero essere invece 23 fino a 28.000 euro, 33% fino a 50.000 e 43 oltre 50.000 euro. Un dipendente che dichiara quei 35.000 euro pagherebbe 7.382 euro di IRPEF, un autonomo 8.409 e entrambi risparmierebbero 400 euro rispetto alla tassazione attuale. Avrebbero ogni mese in busta paga un qualcosa come 35 euro in più. Circa 35 euro in più in busta paga al mese perché sono tasse che pagano in meno, quindi 35 euro in più al mese. Mentre se si dovesse optare per la soluzione che prevede un'aliquota dal 23% per chi dichiara fino a 28.000 euro, 35% per i redditi fino a 50.000 e 43% per chi dichiara più di 50.000, a questo punto, in questa ipotesi, tra i 15.000 e i 28.000 euro si avrebbe un guadagno di circa 100 euro. 100 euro che sono i soliti 8 euro in più al mese, mentre per chi guadagna ad esempio qualcosa superiore ai 28.000 euro avrebbe 260 euro in più all'anno, quindi un qualcosa come 20 euro in più al mese. Mentre per uno stipendio diciamo di media di 20.000 euro ci sarebbe un risparmio di circa 100 euro, ecco come dicevamo prima i soliti 8 euro al mese. diciamo che tutta questa epoca non fa, nel senso che non mi sembra una riforma storica che fa epoca, epoca come dicevo gli anni 60 è un'epoca, gli anni 70, ecco non è una riforma che fa epoca, è una riforma che lascia qualche soldo in più nelle tasche degli italiani, non ci sono soldi, pertanto non ci può essere una riforma fiscale che fa epoca, uno stato squattrinato, pieno di debiti, che non ha soldi può fare delle riforme fiscali che ti lasciano qualche soldo in più in tasca, ma quel qualche soldo che ti lasciano in più in tasca sommato tra tutti gli italiani fanno tra i 6 e i 10 miliardi che il governo dovrà trovare, quindi è poca roba, ma quel poca roba moltiplicato per 60 milioni di italiani, o meno naturalmente quelli che lavorano, sono tra i 6 e i 10 miliardi che l'Italia non ha e deve da qualche parte andarli a prendere. Cosa capiterà invece per le imprese? Sembrerebbe che non c'è un vero e proprio, l'Ires scende dal 24% al 15%, le rendite finanziarie rimarrebbero allo stesso livello, diciamo che non c'è ancora un calcolo di quanto può risparmiare un'azienda, però attenzione, da una parte tu ricevi sta 100 euro in più all'anno, magari 260 euro, magari 400 euro in più all'anno, da una parte li ricevi in busta paga, ma hanno l'idea di andare a prendere queste detrazioni, cioè questi soldi, dalle detrazioni, cioè io ti faccio pagare meno tasse perché ti faccio detrarre una cosa, adesso io non ti faccio più detrarre quella cosa e te li faccio risultare come meno tasse sullo stipendio, quindi da una parte prendi 100 euro in più, però te li tolgo dall'altra parte come detrazione, un po' i 6 miliardi li prendo di qua, li metto di qua, ma alla fine, alla fine del conto il risultato non cambia, ecco questo sarebbe l'idea, tolgo la gran parte delle detrazioni, così tu paghi più tasse, però poi ti dico che te le tolgo, alla fine ne paghi di più di qua, te le tolgo di là, il risultato è pari, ma a te sembra che ti ho dato 8 euro in più al mese, invece ti do 8 euro in più da una parte, ma te li tolgo con le detrazioni, insomma viene fuori un giochino di questo tipo, quindi ditemi voi se è una riforma epocale. Arrivederci a tutti e grazie.